Oggi l'abbiamo detto, parliamo di temi davvero importanti, la casa e l'acqua. Seconda parte dedicata a tutto quello che bolle in pentola rispetto all'acquedotto pugliese. Lo facciamo in compagnia di Vito Palumbo, responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne di ACUPI. Buon pomeriggio, ben trovato. Buon pomeriggio a te e ovviamente ai teleascoltatori. 080 501 9998 per intervenire ed essere subito collegati con noi. Allora, partiamo dalla questione di più stretta attualità, bonus idrico. Ieri è stato firmato, siglato dalla Regione Puglia, dall'Acquedotto, dall'Anci e anche dall'autorità idrica un addendum, un protocollo d'intesa del 2012 che ci dice quali saranno le riduzioni rispetto alle bollette sull'acqua. Arriveranno ad aprile, ma prima di cominciare abbiamo subito una telefonata in linea. Pronto? Pronto? Io ho chiamato prima, sono quello che ha parlato del contributo locatizio, non quelli inquilini che sono morosi. Io avevo detto alla signora Gallucci, il fondo, come si chiama, il contributo allogiativo che danno in anno. Io l'anno scorso, per quel motivo che ho detto, non ho avuto il contributo. E lei ha risposto in un'altra maniera, per quelli morosi. Non c'entrava, io non sono moroso. Io sto pagando il fitto, ho detto alla signora che io pur di sacrifici che faccio, purtroppo pago il fitto. Ma lei la domanda fu respinta perché l'appartamento è superiore a 95 metri quadri. Allora si dice tanto di aiutare le famiglie, però mi è stato respinto il contributo. E invece ha risposto dalla morosità. Io non sono morosa. Facciamo così, magari può richiamare la nostra redazione, lasciare un suo recapito telefonico. Noi torneremo a contattare la consigliera Floriana Gallucci, di modo che potrà rispondere sul suo caso specifico. Ad ogni modo torneremo comunque a invitarla in trasmissione. Certo, voglio dire, è chiaro che noi ci occupiamo dei casi singoli, ma premeva certamente parlare di questo nuovo bando che distribuirà in Puglia 15 milioni di euro. Non sono pochi in un momento difficile come questo. E a proposito di agevolazioni, visto che adesso parliamo di acqua, parliamo invece del bonus idrico. Di che cosa si tratta? Anche i nostri milioni non sono pochi, sono circa 13 e sono dei soldi che Acquadotto Pugliese destinerà per rimborsare per l'annualità 2012-2013 una quota parte del consumo effettuato dalle famiglie meno abbienti pugliesi. Questo, l'abbiamo detto, lei lo stava accennando, riguarda le annualità 2012-2013. Anche se in questo addendum al protocollo d'intesa firmato ieri, lo ripetiamo, da Regione Acquadotto, da Lanci e dell'autorità idrica, c'è anche la possibilità che venga prorogato per il 2014. Intanto queste risorse dove arrivano e come saranno distribuite? Queste risorse sono in un fondo, il cosiddetto FONI, che è il Fondo Nuovi Investimenti, e sono già disponibili. Noi in realtà potevamo anche utilizzarli già a partire dallo scorso anno, però abbiamo atteso perché la tariffa è stata stabilita in via definitiva dall'autorità per l'energia, che è quel organismo, lo dico ovviamente per chi non è addentro a queste tematiche, ed è l'organismo nazionale che sovrintende proprio le questioni tariffari. Quindi una volta che è stata stabilita in via definitiva la tariffa applicabile, abbiamo così potuto anche di converso ovviamente stabilire quale contributo andava al singolo beneficiario. Dunque stiamo parlando, per dirla in soldoni, di sconti che arriveranno sulle bollette dell'acqua, voi avete detto verosimilmente sulla bolletta di aprile. Chi ha diritto a queste agevolazioni? Stiamo parlando, intanto forse è anche utile sottolineare, di sconti per bollette già pagate relative ovviamente agli anni 2012 e 2013. Gli aventi diritto sono quelle famiglie che dichiarano un reddito complessivo familiare attraverso il modello ISEE inferiore ai 7500 euro, ovvero quelle famiglie che hanno un reddito familiare complessivo compreso tra i 7500 euro e i 20.000 euro però con almeno quattro figli a carico. Poi vi è ancora una terza categoria che riguarda invece quelle famiglie che purtroppo hanno delle situazioni familiari con gravi handicap. È importante questo passaggio, ci sono appunto tre categorie che hanno diritto a queste agevolazioni e sono però famiglie che devono già avere usufruito del bonus elettrico. Infatti, questi sconti si applicano a quelle famiglie che hanno già usufruito del bonus elettrico, non solo, ma qualora vi siano ancora delle famiglie che non abbiano usufruito del bonus elettrico però si trovino nelle condizioni di poter accedere ai benefici di cui parliamo. Ovviamente il nostro appello è quello di fare domanda di accesso al beneficio elettrico. La domanda sorge spontanea, come si fa la domanda sia per usufruire di queste agevolazioni che per il bonus? Se ci può rispondere... Allora, per quanto riguarda quest'ultima questione, bisogna ancora attendere un ulteriore protocollo che verrà siglato a breve nel quale ovviamente andremo a disciplinare le procedure puntuali per l'ottenimento del bonus. Comunque, per quanto riguarda l'ottenimento del bonus idrico sarà molto semplice perché l'interessato verosimilmente dovrà comunicare ad Acquedotto Pugliese nei canali di comunicazione, quelli usuali che già ben conosce, ovvero attraverso il numero verde oppure sul portale, il proprio codice del bonus elettrico ed il proprio codice contratto. Un aspetto particolare riguarda invece quelle famiglie che risiedono in condominio e quindi che non sono titolari di un proprio contratto, anche per essi è molto semplice. Basterà quindi a queste famiglie farsi avere il codice contratto dal proprio amministratore di condominio e quindi darci questa comunicazione. Dopodiché i soldi praticamente arriveranno attraverso l'amministratore di condominio che quando ripartirà le quote condominali tra i vari condomini ovviamente dovrà tenere presente di questi benefici. 080 501 9998 per intervenire ed essere subito collegati con noi. Siamo in compagnia di Vito Palungo, il responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne di Acquedotto Pugliese. A lui potete fare, se volete, tutte le domande che riguardano l'Acquedotto. Dunque, torniamo alla questione del bonus idrico. È importante capire anche un po' le cifre. Stiamo parlando di non proprio pochi soldini messi a disposizione. A quanto ammonta questo bonus? Allora, i soldi disponibili sono, come dicevo, poc'anzi circa 13 milioni di euro. Non solo, ma riguarda anche una folta platea di contribuenti. Nel nostro caso abbiamo fatto una stima di circa 120 mila famiglie, quelle potenzialmente beneficiarie di questo bonus. E in un momento ovviamente di crisi congiunturale che tutti ben conosciamo, stiamo anche parlando di contributi per famiglie che riguardano anche cifre consistenti. Perché passiamo da un minimo di circa 40 euro per anno. Quindi 80 euro nel biennio, diciamo. Sì, 80 euro sarà l'importo complessivo minimo che andremo a restituire, ad erogare nell'arco del 2014. E passiamo quindi da circa 80 euro fino ad un massimo di 270 euro. Insomma, non sono proprio pochi. Non sono proprio pochi. 270 euro, insomma, si fanno sentire sul portafogli. Abbiamo una telefonata in linea. Pronto? Pronto, buonasera. Vorrei fare una domanda al signor Palumbo. Prego. Senta, io sono un condomino che ho un contattore mio proprio. Essendo la platina è nuova e ho già un bonus della luce e dell'alga. Non ho capito questo passaggio che cosa dovrei fare presso l'acquedotto. Sì, lei usufruisce del bonus elettrico, non ho capito. Usufruisce del bonus elettrico? Sì, sono un invalido, c'è un frilusso, mi usufruisco del bonus elettrico e sia da circa due anni. Bene. E siccome che ho un contattore proprio dell'acquedotto, perché vivo in un condomino dove c'è un contattore, ognuno c'è il contattore autonomo. Il contattore autonomo. Sì, perché mi arriva la bolletta dall'acquedotto. Non ho capito questo passaggio. Bene. Per questi clienti. Concretamente. Grazie, grazie mille per il suo intervento. Allora, mi pare che da quello che ci dice dovrebbe essere un beneficiario del bonus elettrico. Sì, sicuramente ed è assolutamente anche semplice quello che il cliente deve fare. A partire da gennaio, quando partirà ufficialmente la campagna, dovrà comunicare, come dicevo prima, o attraverso il numero verde o collegandosi al nostro sito, i propri codici, sia quello del bonus elettrico di cui già beneficiato, sia il proprio codice cliente. Dopodiché poi, semplicemente in bolletta, a partire dalla seconda metà del 2014, noi andremo a compensare le cifre del bonus rispetto, ovviamente, alle cifre del consumo effettivo. Certo, intanto noi, attraverso proprio Telebari e Radio Bari, approfittando della presenza del dottor Palumbo, comunicheremo, non appena sarà disponibile il banno, mettiamolo così, cioè la possibilità poi praticamente di farlo, perché adesso, se si va sul sito internet di Acquedotto, non si possono dare ancora i riferimenti. Bisogna aspettare ancora qualche altro giorno, per cui non appena sarà disponibile la procedura, vedremo di comunicarlo, ci impegniamo a diffondere questa informazione, così il telespettatore saprà poi quando può fare domanda. Dicevamo, quindi, stiamo parlando di uno sgravio non indifferente che arriva fino a 300 euro. La cosa però, ieri c'è stata la sottoscrizione di questo addendum al protocollo, alla presenza del Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, che ci ha tenuto a sottolineare che questi 13 milioni di euro, che sono presi da un fondo di investimenti, però poi non vengono effettivamente tolti agli investimenti infrastrutturali. Questo, diciamo, ci ha tenuto a ribadirlo. È effettivamente così? Assolutamente. Il nostro impegno per il miglioramento della rete è immutato. Quello a cui adesso noi abbiniamo è l'impegno anche perché gli ultimi non rimangano tali, ma vengano aiutati a rimanere con noi. A proposito di investimenti, che cosa bolle in pentola? Su che cosa state lavorando? In particolare su Bari, per esempio, noi a partire dalla seconda metà di gennaio partiremo con un lavoro molto particolare, la sostituzione di una lente innovativa che regolamenterà la distribuzione idrica in grandissima parte dell'abitato, del capoluogo e che ci consentirà di avere in futuro non solo una migliore distribuzione nell'intero abitato, ovvero una pressione più regolare nei vari quartieri, ma anche un effetto benefico su eventuali rotture e comunque meno richieste di interventi. Questo che territorio riguarderà tutta la città, in particolar modo delle zone? Quasi tutta la città, in particolare dal quartiere Libertà fino giù a Iapigia, passando per il centro storico e il quartiere Murat. La lente che noi andremo a sostituire è una lente di ultima generazione, tra l'altro con orgoglio posso dire che è una lente assolutamente unica al mondo perché è frutto di uno studio di Acquedotto Pugliese e in particolare di una nostra collega, di una giovane ingegnere, Valeria Caporaletti, tant'è che l'abbiamo noi simpaticamente denominata la lente Valeria. 080 501 9998 per intervenire ed essere subito collegati con noi. Siamo in compagnia, lo ricordo ancora una volta, di Vito Palumbo, responsabile delle relazioni esterne e della comunicazione di Acquedotto Pugliese e dunque, come potete facilmente intuire, parliamo di acqua. Dunque dottore, lei ha detto, adesso ha parlato di questi lavori, quanto dureranno, se si può fare intanto una stima, e se ci saranno rispetto a questo degli inevitabili disagi un po' connaturati, quindi l'utenza come si deve attrezzare rispetto a questo intervento? Questi sono degli interventi che qualche disagio comporteranno all'utenza, sono comunque interventi che noi andremo a fare dopo le vacanze di Natale per un accordo espresso, preso proprio con l'amministrazione comunale, proprio per evitare di portare disservizi alla popolazione durante le vacanze natalizie. E comunque saranno dei disservizi assolutamente gestibili, si tratterà soltanto di abbassamento di pressione nella rete pubblica, che però su alcuni casi, ovvero di stabili non provvisti di una idonea struttura interna di approvvigionamento idrico, che potrebbe subire qualche disagio. Per quanto riguarda la lunghezza in termini temporali del lavoro, noi contiamo di fare il più presto possibile, però quando si parla di scavi l'imprevisto è sempre in agguato, quindi non fosse altro che per motivi scaramantici al momento direi che dare indicazioni sul cronoprogramma in questo momento è ancora prematuro. Dunque abbiamo una telefonata in linea, pronto? Sì, buonasera, volevo solamente chiederle la possibilità che mi venga ripetuta un attimino questa...